Una serata interamente dedicata alla promozione e divulgazione delle eccellenze del territorio, sotto riflettori prodotti del Made in Italy, ma più specificatamente quelli della provincia di Latina. Al Museo del Brigantaggio di Itri, ancora una volta, il progetto Modello Italiano ha messo a punto una serata evento in cui alcuni produttori presenti sul territorio hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e di promuovere le loro produzioni. Made in Italy per noi è fondamentale, ma io più che Made in Italy parlerò a questo punto di Made in provincia di Latina. Cioè un territorio bellissimo, un territorio ricco, un territorio di agricoltura, un territorio di turismo, un territorio a vocazione agricola e turistica. Credo che sia il futuro di questo territorio, quindi promozionare il Made in Italy, promozionare contestualmente quello che è il Made in Latina e soprattutto, ecco, sono questi eventi che danno la possibilità a chi è presente sul territorio di farsi conoscere, di far conoscere le bellezze turistiche, le bellezze dei centri storici, le bellezze soprattutto enogastronomiche di questo territorio. Quindi, concretamente, cosa può fare una provincia? Una provincia dovrebbe ripristinare quello che purtroppo negli anni è stato tolto, ovvero ripristinare quello che fa una famosa azienda di promozione turistica, cioè mettere insieme le diverse realtà di questo territorio, ovvero dai singoli enti locali, dalle associazioni di categoria, per cercare insieme di promozionare quelle che sono le bellezze, come abbiamo detto prima, di questo territorio. Quindi essere quell'ente che sia sinergico per mettere insieme tutti gli altri. Ad esempio, dal punto di vista del lavoro, perché poi ci sono tante cose che vanno collegate, quindi il lavoro nell'ambito dell'alberghiero, il lavoro nel commercio, nella produzione, nell'artigianato, che cosa può fare, ad esempio, un collegamento con le varie regioni? Non so, Lazio e Lombardia, potrebbero fare delle cose insieme? Assolutamente sì, io credo che come possono farli insieme i diversi comuni dello stesso territorio, possono farli insieme diverse regioni. Ogni territorio si caratterizza per una propria peculiarità e l'obiettivo finale delle regioni dovrebbe essere promozionare le proprie peculiarità. Quindi magari gemellarsi, come fanno molti comuni di adesso, magari anche qualche regione si può gemellare, regione come la Lombardia, regione come il Lazio, hanno due vocazioni diverse. Però comunque credo che possono avere quella sensibilità da poter trovare sicuramente un punto in comune per poter promozionarsi entrambe. Cosa può fare l'informazione? Può fare tanto, no? Con la comunicazione di quello che è un po' il territorio. Ma effettivamente un giornale ancora può vivere in una realtà, diciamo così, di informazione locale? Beh sì, assolutamente. Non è che può fare. Un giornale locale deve fare molto. Per esempio, intanto siamo qui stasera. Sì, poi ho visto il pezzo, insomma, che è andato. Il nostro compito è quello di sollecitare, quello di cercare di destare l'attenzione su una serie di problematiche. Questo territorio, come diceva prima il vicepresidente della provincia, non ha soltanto bisogno di promuoversi. Ha l'urgenza di farlo. È necessario correre in direzione della promozione intesa come ricerca di soluzioni per un futuro che oggi si presenta in maniera non troppo rosea. Questo territorio ha una serie di eccellenze che forse soltanto noi di questo territorio conosciamo. Questo è il primo scoglio da superare. La provincia di Latina o il Lazio più in genere dovrebbero riuscire a fare quello che abbiamo visto fare a una regione come la Puglia, come la Sardegna per le bellezze naturali che ha e altre regioni, oppure il Trentino per le montagne o la Valle d'Aosta. Noi dovremmo diventare, intanto per l'Italia, uno dei luoghi privilegiati dove si può vivere il mare, per esempio. Perché ce ne abbiamo molto ed è anche molto bello. La gente che viene qui a vedere il mare troverebbe delle cose che non ha altrove, perché i paesini medievali che abbiamo nella cerchia dei Monti Lepini, o delle realtà come Itri, la patria di Fradiavolo, o la storia che ha Gaeta, o la storia di Fondi, la storia di Terracina o la bellezza di Sperlonga. Queste sono tutte cose che fuori da questa provincia si conoscono poco. Noi dobbiamo riuscire a veicolare, a trascinare in questa provincia tutto il paese. Perché soltanto così possiamo capire qual è la forza del territorio e possiamo cominciare a capire che è ora di investire su questo territorio per il futuro. E come diceva prima, parlando con l'assessore Carnevale, questo è un territorio che deve vivere di agricoltura e di turismo. Prodotti tipici e artigianali, ma anche momenti di cultura e storia, con la presenza del Museo del Fronte della Memoria e della Coldiretti. Allora sì, una Jeep Willys del 1942 è stata ritrovata in un fienile, appena dopo la guerra. In quel periodo questi mezzi erano una risorsa, perché servivano per riattivare quello che era il Made in Italy, ecco possiamo dire, visto che stasera parliamo di Made in Italy. L'Italia ormai era afflitta da questo conflitto, ormai non c'era più niente, non c'era più città, era tutto distrutto. E con questi mezzi si cercava di ricominciare. Molte sono state trasformate, come per esempio in trattori veri e propri, molti sono stati trasformati come mezzi per trasporto su rotaie e alcune sono rimaste così per spostarsi nelle città, nella parte che è legata poi al comprensorio agricolo. Importante per esempio, oltre che la Jeep, che è un bellissimo pezzo, quello di ricordare la nostra storia, perché il nostro Made in Italy è anche la nostra storia. Noi abbiamo una storia in Italia che fa paura, dall'antica Roma, anzi pure prima, a quello che è poi gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, che segneranno anche il territorio di Itri. Proprio questa qui è una delle tante che è salita dalla Sicilia per liberare. Fa parte della Quinta Armata, come possiamo leggere anche sulla parte anteriore della macchina. Abbiamo Quinta Armata, Quartier Generale 17, era una Jeep che entrava per prima nelle città, perché era quella che cercava di aprire il varco, molto probabilmente poteva portare anche su qualche generale, qualcuno che doveva dare contatto. Non dimentichiamo che a Gaeta sbarcò uno degli attori principali, poi della parte americana, per quanto riguarda l'armistizio, che proprio domenica ricorderemo qua in Italia. L'8 settembre sarà una piaga, nello stesso tempo una liberazione, che si comincerà l'ultimo pezzo di questo brutto periodo di guerra. Saremo cacciati dai nostri territori con la parte del coprifuoco tedesco, specialmente Itri, che porterà tutte le persone sulle montagne, la parte interna, Montelevele, la parte di Campello, andranno a vivere lì, e si salveranno molti bambini, che poi ripermetteranno di nuovo di creare quello che oggi è il paese di Itri, è come quello di Gaeta e quello di Formio. Che cosa vuol dire fare Made in Italy in questo momento, specialmente in queste zone? In queste zone sono vocate proprio per il Made in Italy, qui abbiamo zone dove senza il Made in Italy non ci si può né vivere né dare un senso alla vita, anche perché oggi, negli ultimi periodi, si parla di cibo. Quando si parla di cibo, sia nelle scuole, sia nelle famiglie, si parla di Made in Italy. Noi vogliamo ancora di più avvicinare il consumatore, ringraziamo gli organizzatori della manifestazione odierna, non solo perché c'è l'artigiano, ma c'è anche l'agricoltore che con i suoi prodotti, con il suo territorio, avvicina sempre di più il consumatore. Far capire, far conoscere, sin dall'età piccola, sin dai bambini, come si mangia, cosa significa il mangiare bene, non è altro che salute. Le iniziative dove sul territorio vogliamo far conoscere sempre più il nostro essere, si chiama Campagna Amica. Campagna Amica non è altro che portare in piazza, sia nelle piccole che nelle grandi piazze, sia nelle grandi città come Roma, sia in questo piccolo centro come Itri, i prodotti del territorio, perché far conoscere al turista e a tutti i prodotti della terra può essere solo un momento di incontro tra consumatori e produttori agricoli. è un progetto che interessa a tutti, quindi che non è una semplice manifestazione, una semplice festa di una sangra o qualsiasi, ma è qualcosa che vado a unire, e io sono contentissimo, pensa anche tu, che va a unire l'artigianato, il prodotto tipico, arte, storia e cultura. Ma adesso stiamo toccando appunto le istituzioni, quindi i punti giusti per coniugare questi fattori. La novità che stiamo portando, non portiamo il singolo espositore, quando il paese, quindi se ci sta Gaeta, ho detto un nome a caso, ci stanno tre, quattro associazioni dentro, perché noi devono rappresentare tutto Gaeta, non chi ha un prodotto, la stessa cosa a Formia, la stessa cosa a Casseforte e così via, quindi come potete vedere è un'innovazione anche come sistema, noi siamo dei creativi, quindi partiamo dall'artigianato creativo, però spaziamo un po' su tutto e portiamo novità in tutti i settori. Le difficoltà che noi abbiamo è che i nostri nonni hanno lasciato una bella eredità e adesso la gioventù di adesso sta abbandonando, i fuochi ne fanno da patrone sui nostri olivedi che rimangono abbandonati. Noi stiamo cercando di riprodurre, riportare in produzione i nostri olivedi per un avvenire ai nostri figli che così possono mangiare un prodotto sano, anche perché parecchi mercati si stanno aprendo, stanno conoscendo le nostre eccellenze di olio e si stanno aprendo sia negli Stati Uniti, in Germania, in Irlanda. Quindi apprezzano i nostri prodotti? Apprezzano moltissimo i nostri prodotti e poi anche gli italiani stesso vedo che apprezzano l'eccellenza che abbiamo. Secondo me avere tutte queste associazioni, produttori, istituzioni, vuol dire progettare e costruire il futuro di ogni zona. Noi abbiamo quindi una grande rappresentanza di istituzioni locali e anche di produttori che vogliono proprio unirsi per combattere quello che è un po' l'isolamento dei territori. Io vedo appunto le istituzioni che quando si mettono insieme i produttori locali riescono effettivamente a stravolgere quello che è un po' il silenzio e la solitudine di quelli che sono un po' i territori lasciati andare. Però credo che il turismo come dicevano anche prima il vicepresidente della provincia credo che sia effettivamente la cosa importante allungare questa voglia e cercare di capire che cos'è il modo più interessante per aiutare i nostri produttori e artigiani locali. Quindi l'unica cosa è unire le forze. Grazie.